bentornato gutier bentornata iniziamo questa nuova decade da dove eravamo rimasti il menu che si presenta dal pulsante start e nella fattispecie dalla sezione gestione disco è già stata trattata anche se levemente per la versione di windows 7 quindi una piccola base di partenza comunque già la possiedi ma andiamo a vedere nel dettaglio consente di gestire i dischi rigidi e le altre unità di archiviazione che sono connesse al computer sinteticamente puoi esplorare i dispositivi come se usassi esplora file o esplora risorse oppure eliminare le partizioni gestirne lo spazio allogato quindi le dimensioni visionare le proprietà eseguire alcune operazioni settare delle impostazioni e molto altra ancora come si avvia in maniera rapida cliccando con il tasto destro del mouse sul pulsante start dal menu che si presenta trova gestione disco e cliccaci sopra si aprirà una finestra suddivisa in due sezioni quella superiore presenta la lista dei volumi o dischi collegati al pc e nella sezione inferiore puoi visionare una veste grafica di ciò che è evidenziato nella sezione superiore da qui puoi interagire con i volumi le partizioni periferiche del pc in alto trovi la barra dei menu e una serie di icone che ti consentirà più o meno di eseguire le stesse operazioni che potrai applicare cliccando con il tasto destro del mouse su una partizione e che ora vedremo nascerà un menu che ti consente di eseguire alcune operazioni aprire la partizione esplorarla contrassegnare la partizione come attiva cambiare la lettera o il percorso dell'unità formattarla estendere il volume oppure ridurre le sue dimensioni aggiungere un mirror eliminare il volume o visionare le proprietà noterai però che alcune opzioni non sono selezionabili quindi non sono in grassetto qui nella rappresentazione di quello che ho appena detto le prime due opzioni consentono di visionare il contenuto della partizione come se aprissi esplorafai l'opzione invece contrassegna partizione come attiva ti consente di impostare una partizione primaria come attiva quella in cui risiede il sistema operativo attenzione però che se con altri strumenti trasformi una partizione attiva in non attiva il sistema operativo non si potrà avviare tramite l'opzione cambia lettera o percorso unità puoi semplicemente cambiare la lettera che viene assegnata ad una determinata partizione l'opzione invece formatta rimuove tutti i dati dalla partizione che avrai formattato estendi volume e riduci volume sono strettamente legate ti consentono di aumentare le dimensioni di una partizione solo in presenza però di spazio non allocato o ritorne lasciando libero uno spazio del disco in modo da poter creare quindi allocare una nuova partizione a tuo piacere aggiungi mirror invece impiegato per creare una copia esatta di un insieme di dati normalmente non impiegata da noi utenti domestici tramite elimina volume puoi rimuovere una partizione e quindi tutti i suoi dati all'interno ciò è possibile per la partizione in uso ma se hai installato un doppio sistema operativo nel disco rigido come la situazione del dual boot rimuovendo l'altro sistema operativo non potrai avviare il pc se volessi scegliere il sistema operativo alternativo ma solo quello attualmente in uso infine proprietà ti mostra tutte le altre opzioni visionabili ed attuabili per quella data partizione come puoi vedere da questo screenshot una serie di sottosezioni potrai visionare lo spazio utilizzato e disponibile eseguire operazioni di controllo di errori disco o ottimizzazione della periferica conoscere dati rilevabili come la funzione di gestione dispositivi impostare una condivisione della partizione o di file o delle cartelle gestire le autorizzazioni delle operazioni da seguire sulla determinata partizione per una questione di sicurezza e molte altre opzioni come vedi un'ampia possibilità di azioni per personalizzare l'utilizzo dello spazio disponibile su una partizione bene guter andiamo a vedere la sezione pratica individua il pulsante start cliccaci con il pulsante destro seleziona la sezione gestione disco dopo qualche secondo si aprirà la sezione che dobbiamo visionare come vedi a due sezioni una normale ed una grafica qui in alto trovi una serie di pulsanti e menu che ti permettono di eseguire le operazioni che più o meno adesso andremo a descrivere che puoi impostare su questa sezione oppure su questa sezione come vedi in questo mio pc ho tre dischi rigidi suddivisi andiamo ad operare su una partizione di prova che ho opportunamente creato cliccando con il pulsante adesso su questa partizione oppure anche su questo il risultato non cambia si genera un menu che ti permette tramite le prime due opzioni di aprire visionare il contenuto della partizione ovviamente in questo caso è vuota come viene rappresentato normalmente con esplora risorse chiudiamo e vediamo le altre opzioni tramite questo pulsante contrassegna partizione come attiva ti viene data la possibilità di impostare questa partizione come attiva come vedi c'è una nota che ti indica che questa partizione deve contenere un sistema operativo altrimenti non sarà possibile avviare il disco facciamo no vediamo le altre opzioni cambiare lettera e percorso di unità ti dà la possibilità di cambiare la lettera che attualmente è impostata in questa partizione come vedi h tu puoi anche semplicemente rimuovere la lettera oppure cambiarla selezionando dal menu che si crea potrai anche scegliere a tuo piacere come etichettarla supponiamo di dargli indicazioni m c'è una nota che ti dice che alcuni programmi a cui fa riferimento la lettera attualmente in uso h potrebbero non funzionare se ad esempio ha creato un collegamento e questo d'altronde alloggio in quanto tu cambiando la lettera il collegamento creato che fa riferimento a quella lettera non sarà più esistente quindi un eventuale file o programma presente in questa partizione non potrà più funzionare clicchiamo su sì e vediamo che la partizione precedentemente etichettata con la lettera h ora si è trasformata in m l'opzione formatta ti dà la possibilità di formatare cambiando anche il nome che etichetta il volume rimuovendo tutti i dati presenti in esso puoi selezionare di eseguire una formattazione veloce oppure lenta cliccando naturalmente su ok si avvierà la formattazione della stessa estendi volume in questo caso non è possibile in quanto non ha spazio allogato ma noi lo creiamo tramite la sezione riduci volumi in questo caso ti dà la possibilità di decidere di quanto spazio creare dopo questa partizione supponiamo di dare una posizione di 10 gb quindi 10.000 megabyte riduciamo il volume e si creerà una partizione da circa 10 gb su questa partizione potrai ovviamente creare un nuovo volume quindi una nuova partizione per poterci operare una serie di clic ti permetteranno di avviare questa procedura cambiando anche il nome del volume quindi l'etichetta con cui verrà chiamata questa partizione alla fine si avvierà la procedura di formattazione e creazione del nuovo volume come vedi a tutte le caratteristiche delle precedenti unità e in questo caso possiamo anche intervenire sulla stessa procediamo con la descrizione delle altre opzioni andiamo proprio ad eliminare questo volume che avevamo precedentemente creato ti notifica che tutti i dati presenti in essa verranno persi quindi sarebbe utile eseguire un backup clicchiamo su sì si eliminerà questa partizione quindi ci sarà uno spazio libero da allocare e noi lo riceviamo alla partizione precedentemente ridotta estendiamo il volume con una serie di clic tramite una procedura guidata possiamo far sì che venga acquisita questa partizione non allocata a quella precedentemente allocata ecco qua che si ripristina la partizione precedentemente allocata andiamo avanti c'è il pulsante proprietà che ti apre una serie di opzioni che è possibile eseguire da una pulizia disco che permette di eseguire una certa ottimizzazione in questo caso non essendoci alcun file non è necessario eseguire alcuna pulizia sarà sufficiente poi selezionare il parametro eventualmente visualizzare i file ed eseguire la pulizia la sezione strumenti ti permette di controllare eventuali errori che possono essere presenti in questa partizione è un'operazione abbastanza semplice che esegue in maniera autonoma cliccando su analizza l'unità è possibile eseguire un'analisi che ti dà eventuali indicazioni su errori che possono comparire all'interno della partizione oppure ottimizzare la partizione creando una defragmentazione qualora ce ne fosse bisogno ma con gli ultimi sistemi operativi è anche abbastanza inutile eseguire questa operazione la sezione hardware ti presenta una parte dell'hardware in termini di unità di memorizzazione di archiviazione collegata a questo computer con le rispettive proprietà che puoi visionare da gestione dispositivi la condivisione ti permette di scegliere se condividere o meno il contenuto all'interno della partizione supponendo che questo computer possa far parte di una rete di computer altra cosa che potrebbe tornarti utile ma qui già se hai qualche conoscenza un po più profonda fornire delle autorizzazioni particolari in termini di sicurezza per questa partizione come vedi puoi interagire con la partizione andando a modificare le autorizzazioni ciò che consenti o che neghi in relazione alla partizione che avrai selezionato se tu sei un amministratore che può avere il controllo completo oppure un utente generico che ha ovviamente autorizzazioni limitate qualora le volessi modificare sarà sufficiente cliccare sopra aggiungere o togliere le autorizzazioni che vuoi consentire e applicare le operazioni appena selezionate come vedi c'è un'ampia possibilità di gestire le operazioni eseguibili su queste partizioni l'importante che tu sappia che nel caso in cui ci fossero dei problemi potresti invalidare la funzionalità del sistema operativo quindi con una certa attenzione avventurati in questa nuova sezione ultima cosa che naturalmente ti sarà già andata all'occhio è la possibilità di visionare i parametri relativi alla partizione in termini di capacità spazio utilizzato e ovviamente spazio disponibile nella prossima lezione continueremo questa lunga sezione visionabile tramite il pulsante start ora un forte saluto ciao a presto da carlo e dalla prossima